Così va meglio. Sai che puoi fare? Prepara un grosso conto. Le medicine, i brodini, la legna per la stufa, tutto quello che capita. Se Oblomov ti chiederà i soldi dei canoni, dirai che sono serviti per pagare le sue comodità di quando era malato. Ci vuol altro che legna ai brodini. Quello schifoso di un tedesco. Vuoi scommettere che imbroglierà Oblomov perfino con le azioni? Che azioni? Le azioni. Un'idea tedesca. Per fare che? Per rubare, perché altro? Un ladro inventa un materiale per costruire una casa che non prende fuoco. Invece di costruire una casa per sé, comincia a costruire una città. E siccome non ha soldi, prende dei fogli di carta e li vende. Questo vale mille rubli, dice. Ed ecco gli allocchi ci cascano, comprano la carta e se la rivendono tra loro. E poi? E poi, se le case vengono su bene, i pezzi di carta diventano più cari. E se no, se no non valgono niente. La città è bruciata. E l'inventore è scappato coi rubli, hai capito? Ecco le azioni. Oh, per loro.